al 122 della 42esima troviamo questo grattacielo in stile art deco che il chaining building realizzato dall'architetto erwin chaining molto particolare il gruppo di rilievi che si trova nella lobby e che si chiama la città delle opportunità il cui significato simbolico sta a rappresentare il fatto che new york city una città all'interno della quale se ci si dà da fare si possono raggiungere dei risultati sperati un motivo sicuramente autobiografico per l'architetto che iniziò la sua carriera progettando due case nel lontano quartiere di bensonars a brooklyn e nell'arco di soli dieci anni aveva già progettato più di 200 edifici in giro per la città